La Commissione Bilancio della Camera ha approvato nel pomeriggio di oggi l'emendamento governativo che riformula una serie di proposte di tutte le forze politiche in modo unitario e che stanzia la cifra di 500.000 euro a favore dei comuni di Stresa e Diomegna per consentire un sostegno economico a favore delle attività economiche del Mottarone pesantemente danneggiate dal grave incidente della funivia. Ne danno notizie all'onorevole PD Enrico Borghi e il leghista Alberto Gusmeroli. Di Chiara Borghi abbiamo lavorato a stretto contatto col governo e con tutte le forze politiche correggendo anche la versione originaria che escludeva il comune di Omenia per mancata conoscenza della geografia del luogo. Attribuire uno stanziamento ai comuni è il modo più rapido e anello per far avere un indennizzo proporzionato agli operatori economici. Gusmeroli rimarca la sua soddisfazione per l'approvazione dice del nostro emendamento al decreto sostegni bis che prevede un contributo proporzionato al numero di attività della cima del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere di ristorazione e bar con licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021 e degli impianti a fune. L'amministrazione di Stresa esprime la sua grande soddisfazione e ringrazia tutti i parlamentari delle forze politiche che hanno lavorato uniti adoperandosi per il raggiungimento di questo traguardo così importante a sostegno degli esercenti della vetta e del territorio.